Ed eccoci qui, buon pomeriggio a tutti, canale 2C dopo il Tg, consueta striscia quotidiana della nostra emittente dedicata a un tema che intendiamo approfondire e sul quale vogliamo darvi magari una serie di informazioni in più. Prima di entrare nel tema vi presento l'ospite che abbiamo oggi qui con noi in studio, si chiama Amelia Sgobba, l'abbiamo già presentata a voi, per chi ha buona memoria, nel corso della presentazione di un libro qualche tempo fa, ma di lei sicuramente avete visto alcune immagini e un po' tutto quello che circola anche sul web per quanto concerne l'associazione che avete messo su nell'ospedale delle Murge, l'ospedale Fabio Perinei, dove avete creato questa stanza del sorriso, la vostra associazione come si chiama? Una stanza per un sorriso, onlus, nella fattispecie ti insegno un trucco. Tutto per chi magari è un po' infarinato nella storia che vi racconteremo nasce dal sostegno psicologico, soprattutto alle persone che devono affrontare il percorso della chemioterapia e sappiamo che sul piano fisico e anche estetico, soprattutto per le donne che devono affrontare questo percorso post-operatorio, stiamo parlando di persone che sono state operate per problemi seri, per tumori, malattie oncologiche e poi c'è un percorso che fa parte del protocollo sanitario italiano che in molti casi, direi quasi nella totalità dei casi, crea delle conseguenze anche estetiche più che psicologiche, però ci sono persone che hanno degli equilibri difficili da tenere assieme e hanno bisogno di un sostegno. Quindi questa associazione è nata con la volontà di regalare un sorriso alle donne che affrontano questo percorso, nell'ospedale della Murgia di Altamura, è stata adibita una stanza con tanto di sedie, magari poi la regia ci mostrerà delle immagini perché abbiamo filmato in più riprese queste situazioni e lì settimanalmente, credo un paio di giorni a settimana, ci sono delle volontarie che aiutano, truccano, trovano assieme il macchiage per la donna e poi adesso arriveremo pian piano a tutta una serie di cose che avete creato. Sono andato bene come prefazione? Benissimo, la stanza del sorriso nasce il 21 settembre dell'anno scorso, viene stipulato un protocollo d'intesa tra la ASL e l'allora presidente della FIDAPA e nasce questa stanza per un sorriso, la dottoressa Rosanna Garantucci nasce la stanza per un sorriso con l'intento ti insegna un trucco, con l'intento di aiutare donne in terapia oncologica a sentirsi meglio in un momento di dolore, ovvero in questa stanza ci sono figure professioniste tutte volontarie, sono psicologhe, nutrizioniste, estetiste, parrucchiere, ci sono nutrizioniste che una volta a settimana, ogni lunedì prestano la propria opera a titolo gratuito e aiutano le donne appunto che stanno facendo terapia nel momento in cui fanno terapia, le aiutano a trascorrere quelle due ore, quelle tre ore della mattina, a trascorrerle in serenità. Quindi questa stanza nasce a settembre e durante il momento appunto della firma di questo contratto, dell'apertura di questa stanza, io ero presente al convegno e siccome era in procinto, era prossima la pubblicazione del mio ultimo lavoro di poesie, del mio ultimo libro, ho deciso di devolvere il ricavato di questo libro a favore di questa stanza. Quindi nasce il mio progetto di voler restituire una banca delle parrucche lì dove, in quella stanza che era già dotata di colori, di macchiage. Questa stanza che stiamo già vedendo adesso con le immagini. Esatto, come si vedono anche lo stand, la postazione del trucco. Ci sono appunto le nutrizioniste, le estetiste, le parrucchiere che aiutano le signore a truccarsi e mancava però la parte principale, mancavano le parrucche. Andiamo per ordine perché alle parrucche io vorrei arrivare cronologicamente perché questo è accaduto avanti ieri, quindi è accaduto lunedì mattina e quindi andiamo in maniera cronologica. Io vorrei entrare in questo tema se tu vuoi, per carità. Certo, certo, certamente. Perché Amelia Sgob ha deciso di scrivere dei libri che adesso vi mostreremo, partendo dal primo. Questo è un libro scritto qualche anno fa da te che si chiama Frammenti di cuore, è un libro che contiene delle poesie. Poi subito dopo hai scritto anche questo libro che si chiama Abbraccio d'amore, scritto con tanti font, tanti caratteri, però tutti assieme creano un cuore e anche questa è una raccolta di poesie. Stessa cosa per Nel silenzio, quest'altra raccolta di poesie con la quale hai vinto anche un premio. Il primo premio nazionale dell'Estonium, sì, prima classificata. E poi il tuo ultimo lavoro nella presentazione nella chiesa della trasfigurazione ad Altamura c'eravamo anche noi quella sera in conferenza stampa, fra polvere e luce. Ecco abbiamo proprio le immagini di quella sera. Se tu vuoi ne parliamo, altrimenti parliamo. Certo. Perché Amelia, ti posso chiamare solamente Amelia, perché Amelia è così vicina a questo problema? Allora, Amelia intanto inizia a pubblicare per beneficenza, perché io tendenzialmente sono una donna molto introversa, quindi lo è di regola chi scrive, perché si relaziona con se stesso nei momenti di tristezza o di gioia estrema, scrive. Io inizio a scrivere, a pubblicare perché nasce un bisogno alla mia chiesa. Io appartengo alla chiesa dei francescani, quindi dieci anni fa, allora pubblico il primo libro, l'allora parroco della mia chiesa era padre Matteo, doveva andare in missione in Venezuela, io sono venezuelana di nascita. E quindi aveva bisogno di fondi, ma non aveva chiesto fondi, però siccome io sentivo questa necessità, e allora avevo deciso con la spinta di mio marito che mi spingeva a pubblicare, ho deciso di pubblicare per regalare, per devolverlo in beneficenza. Era l'unica maniera che mi faceva sentire più protetta, perché è difficile mettersi a nudo, è difficile dare in pasto agli altri quello che è la tua intimità, perché se non sei uno scrittore che inventi, ma sei una donna che scrive quello che vive e dall'oggi al domani tutto quello che hai provato lo ritrovi nelle edicole, lo ritrovi nelle case degli altri, diventa una cosa abbastanza imbarazzante. Però siccome sapevo che era per un fine estremamente importante per me, questa cosa mi ha aiutata. Quindi ho pubblicato e è andato bene, padre Matteo è andato, ha portato questo mio contributo. Dopo arriva un altro momento molto particolare nella mia vita, ho attraversato un altro momento di dolore, perché ho dovuto sottopormi a un altro intervento abbastanza importante, e nasce Abbraccio d'Amore. Abbraccio d'Amore è un ringraziamento a questi medici che hanno aiutato me in questo percorso di vita allora, ma soprattutto viene in soccorso nuovamente, in parte, alla mia chiesa nuovamente, ai Francescani, perché è andato via padre Matteo e è arrivato padre Mario Marino. Padre Mario Marino ha deciso di buon cuore di istituire la mensa della carità perfetta Letizia e tutti quanti noi, a vario titolo, ci siamo sentiti chiamati in causa e io sapevo fare solo questo. Ho deciso di scrivere un nuovo libro e quindi di venderlo, pubblicarlo e ricavato, in parte, è andato dato anche a padre Mario. Poi arriva questa gratifica a livello nazionale, perché arriva nel silenzio, sono poesie, ecco, che lo raccontano, parlano di quello che è una persona vive nella sua più intima, nel suo momento più intimo e ha questo riconoscimento a livello nazionale. Dopo del silenzio arriva Fra Polvere e Luce, perché? Fra Polvere e Luce racconta di quella che è la polvere della quotidianità, che può essere intesa come il disagio che si vive durante le giornate nello scorrere della vita, come può essere intesa come le difficoltà che si devono superare, si incontrano e si devono superare. Fra Polvere e Luce nasce a ridosso di un momento particolare della mia vita di dolore, io ho attraversato un momento di malattia e durante questo momento mi sentivo in questa polvere, ma fortemente cercavo e vedevo che in fondo a questa polvere c'era la luce, c'era la luce che erano gli occhi delle mie figlie, che erano la mia vita, la mia voglia di continuare la vita, che era l'immagine del Signore, io sono credente, quindi questa luce che è la risoluzione del problema. Quindi Fra Polvere e Luce l'ho sentita fortemente vicina a me in questo momento di dolore, ma fortemente vicina a tutte le persone che si trovano a dover affrontare un momento di dolore, perché è vero che racconta la solitudine di una persona in difficoltà, ma è altrettanto vero che racconta della speranza che è la luce, della certezza in una persona che è in difficoltà, nella certezza che oltre quella polvere, diceva ieri Monsignor Ricchiuti che possiamo anche vederlo in questa maniera, che dopo tutto questo clamore che può fare il momento brutto che è la polvere, la certezza che la polvere si abbassa e dopo la polvere si rischiara tutto e c'è la luce. Sì, questa che vediamo adesso è una foto che si riferisce a ieri Monsignor, allora il vostro percorso, la vostra associazione è riuscita a raccogliere dei fondi grazie alla vendita dei libri e ad acquistare queste parrucche che vedete nelle immagini, c'è lo staff medico, c'è anche il vescovo, ecco queste sono le parrucche, io vorrei entrare un po' in questo argomento delle parrucche perché questo è un sostegno che voi date alle donne che purtroppo devono affrontare questo percorso di terapia oncologica nell'ospedale della murgio di Altamura e affrontare anche il costo dell'acquisto di una parrucca. Voi avete raccolto dei fondi con la vendita dei tuoi libri e avete acquistato queste parrucche che darete in dotazione alle donne che ne avranno bisogno in questo periodo, quindi senza pagare assolutamente nulla, senza pagare, lo precisiamo, lo sottolineiamo, lo codifichiamo, lo accadiamo. No perché sono nate un po' di iniziative magari collaterali e quindi uno può pensare che sono cose simili, ci sono due o tre cose simili, perché si raccogliono i capelli eccetera eccetera, voi non raccogliete capelli, noi non raccogliamo capelli, nel senso che ci sono persone che donano i capelli e benvengano anche perché con i capelli possiamo in un secondo tempo, con i capelli raccolti, possiamo decidere di affidarli a qualcuno che possa realizzarci delle parrucche, ma in questo momento storico una stanza per un sorriso, Onlus, che è senza scopo di lucro, ribadisco noi perché io mi sono associata e sono adesso anche una volontaria di questa stanza, noi mettiamo a disposizione la nostra opera, le professioniste mettono a disposizione la loro opera gratuitamente, sottraendo tempo al loro lavoro e in questa stanza io con i fondi del libro Fra Polvere e Luce ho comprato di mio le parrucche che ieri ho donato, in questo momento che stiamo vedendo, ho donato alla stanza per un sorriso e le donne in cura, presso l'ospedale della Morgia, in cura, in terapia oncologica che necessitano di una parrucca e sono impossibilitate a comprarsene una, potranno venire da noi come già vengono e prendere una parrucca a titolo esclusivamente gratuito, avere questa parrucca, utilizzarla il tempo che purtroppo serve e poi ce la riconsegnano perché mantenuta in buone condizioni la parrucca può avere vita. Quante parrucche siete riuscite ad acquistare? Io ho comprato 16 parrucche ieri, però avevamo avuto già in dono da una signora, ne abbiamo avute purtroppo dal marito perché la signora è venuta a mancare, avevamo avuto due parrucche, poi ci sono state due donazioni di signore differenti, quindi siamo arrivati, abbiamo superato le 20 parrucche adesso che abbiamo lì, una l'abbiamo già donata, dieci giorni fa è venuta già una signora, una paziente dell'ospedale della Morgia, anzi non una, due, perché due signore già portano le nostre parrucche. Ti vorrei adesso, come si dice, portare un po' fuori dal discorso tuo personale perché mi sembra anche giusto e doveroso spendere due parole per tutte voi che lavorate all'interno di questa associazione. Quante siete oggi le ragazze? Scusami se mi chiamo ragazze, perché avete uno spirito di iniziativa eccezionale, siete dei petali di rosa che rendono profumato un percorso difficile e quindi vi faccio davvero i complimenti. Grazie, grazie, abbiamo in tanti ci fanno complimenti, noi ci riempiono di gioia e riempiono di gioia il nostro cuore. Noi siamo 18 credo, 18 volontarie e tutti i lunedì mattina a rotazione, non tutte insieme perché non ci saremo poi nella stanza, però tutti i lunedì mattina una figura per professione è presente nella stanza. Io che non sono una psicologa o una nutrizionista, sono la ex paziente, io sono il jolly, io sono quella del consiglio. Io sono quella del consiglio. Perché hai già percorso quello che stanno magari vivendo in quel momento le pazienti. Infatti loro alcune mi prendono come riferimento. Sei un angelo custode. Io vorrei essere un'amica, io vorrei essere la rassicurazione di queste persone. Far capire che si può superare. La speranza che c'è la luce, che la luce c'è. Noi non siamo mai completamente fuori, ma non lo siamo nessuno. Quello che dico sempre, nessuno è certo del domani perché togli quella che è la malattia, ma ormai può accadere di tutto. Perciò fino a quando ci siamo con il sorriso. Io appartengo alla scuola del bicchiere mezzo pieno. Nonostante tutto, fortemente però si va avanti e si va avanti con la convinzione e la speranza. Scusami se ti interrompo. Mentre stiamo parlando ci sono delle immagini che ci riportano poi in quello che avete messo su questa stanza per un sorriso inaugurata nel settembre dello scorso anno, ma fra le tante cose che avete messo su, magari poi adesso la regia pian pianino ci viene incontro, c'è anche un momento particolare nel periodo della settimana santa. Avete organizzato questo concerto bellissimo con l'insolito trio. Qui vediamo la dottoressa Rosanna Garantucci, siete tutte le volontarie con questa divisa. Posso fare? Come mai questo colore? C'è qualcuno che l'ha deciso? No, non voglio criticarlo assolutamente. È bello il carino, è un bel colore, è forte, intenso. Io credo che era il primo colore disponibile per poter fare le maglie. No, ma è stata una scelta non... C'è anche il primario. Il dottor Vessia, sì, sì, sì. E allora? Questo è stato un momento fantastico. Le ragazze dell'insolito trio sono venute a titolo anche loro, gratuito, volontariamente, hanno dietro richiesta, abbiamo fatto questa richiesta e si sono resi subito disponibili. Hanno accettato di venire a suonare per tutto il reparto di oncologia, non era soltanto per le donne, c'erano anche degli uomini in quella giornata. Sono state fantastiche loro, ecco anche la cantante Angela Lomurno, un momento veramente fantastico, di estrema emozione. Io adesso non ricordo il brano, quando hanno eseguito un brano particolare c'è stato un momento di forte commozione. Io guardavo tutti i presenti, gli occhi lucidi, di lacrime e anche io mi sono commosso e sono uscito dalla stanza perché preferisco, ma è un fatto mio caratteriale, non farmi vedere. Sì, è vero, c'è stato questo grande momento di emozione. Però è bellissimo, piangere è una cosa bellissima, vuol dire che il cuore ha qualcosa. Sì, infatti vuol dire che dentro c'è qualcosa di sensibilità. È stato un momento magico, è stato anche per tutto il reparto di oncologia, perché le signore si sono sentite coccolate anche in questo, perché il momento in cui si fa lachemio è un momento oltre che di dolore, di estrema tristezza, perché una persona è portata inevitabilmente a pensare che non c'è molto, non c'è molto. Tutti vedono questo tipo di percorso come un percorso quasi di capolinea, tutti pensano di essere giunti alla fine. Invece con la stanza del sorriso, chi è in terapia non si rende conto che sta attraversando un momento brutto. Il brutto inizia quando vanno a casa, perché allora si sentono soli. Ci sono persone che vorrebbero rimanere con noi in ospedale, ma possiamo tornare anche domani, ma perché non aprite anche domani, sono le richieste che ci vengono fatte. Prima ho detto che voi siete degli angeli custodi, ma non l'ho detto per coniare uno slogan, perché è davvero bello quello che fate. Prima di chiudere, volevo proprio farti una domanda un po' profonda. Quando torni a casa la sera, come ti senti dopo che sei stata vicino a persone che hanno veramente bisogno di un sostegno? Come ti senti? Benissimo, benissimo. Mi sento di aver dato, perché per riallacciarmi a uno che è diventato ormai uno slogan mio, diceva Don Torino Bello, è Dando che si riceve. Io sento che se do una carezza, un sorriso, un sostegno, la sera a casa io riesco a dormire. Perché quando vai a letto ripensi a quello che hai fatto nell'arco della giornata, io ripenso alla persona, alla signora che è andata via perché le ho tenuto la mano magari e si è sentita più coccolata, si è sentita rilassata, si è sentita fiduciosa. E questa cosa mi fa stare bene. E fa stare bene tutte noi, le volontarie, perché è questo il nostro scopo. Quello di regalare un sorriso agli altri è il sorriso che ci viene regalato dalla signora in terapia o anche dal signore in terapia, perché noi comunque andiamo a visitare i maschietti che si trovano nel reparto di oncologia, vanno lo stesso le figure. Il maschio non necessita del trucco come la donna. Però necessita un sostegno morale, psicologico, sì. Ha bisogno della psicologa, ha bisogno del sorriso, ha bisogno della figura, della fisioterapista. No, io le ho visti che camminavano nel corridoio lì, è come se volevano magari essere considerati anche loro. E infatti vengono considerati, magari portiamo una tisana anche agli uomini, portiamo una tisana come la portiamo alle signore, chi non può venire nella nostra stanza a prenderla. Vengono comunque... Ecco, ma nella vostra stanza per esempio vengono i pazienti che in quella giornata affrontano il trattamento terapeutico. Vengono, fanno la terapia nella nostra stanza. Ah, quindi la flebo nella stanza, voi li truccate. Sì, e quello è proprio il momento più rilassante per loro. Loro dimenticano che hanno la flebo, perché mentre hanno la flebo, mentre stanno iniettando la terapia, c'è la parrucchiera che le sistema, c'è l'estetista che le trucca, c'è la nutrizionista che dà il consiglio alimentare, la psicologa che se non è il momento di andare separatamente in quel momento le parla. E quindi ci sono queste figure. Io vi devo fare i complimenti perché avete davvero avuto un'idea bella, un'idea che probabilmente vi chiederanno di esportare o magari in altre località copieranno nel senso buono, che ben venga, copiare le cose fatte bene, è un'iniziativa davvero lodevole. Abbiamo avuto qualche richiesta, qualcuno è venuto già a chiederci aiuto per poter avviare una stanza del sorriso. Magari, chissà, se riusciamo a… Il vostro know-how lo potete trasferire benissimo in altre… Certo, ma mai dire mai, è possibile se ce la facciamo, se riusciamo, perché no? Il nostro aiuto a tutti, a chiunque lo chieda. Ma voi in così poco tempo, perché non è passato nemmeno un anno… No, è passato… da settembre sono sei mesi… Sì, ma siete un gruppo davvero coeso, c'è grande complicità fra tutte voi. No, c'è grande volontà. Noi siamo volontari e c'è tanta volontà. Si è trovato questo insieme di donne che hanno voglia di far star bene le persone, di far star bene le donne che sono in terapia, gli uomini che sono in terapia, di regalare un sorriso a tutti. Siamo state fortunate perché appunto siamo tutte donne che vogliono vogliono, mi ripeto, regalare veramente un sorriso. E credo che ci state riuscendo. Quindi con questa frase di Amelia Sgobba, ospite a Canale 2C dopo il Tg oggi, si conclude la nostra puntata odierna. Speriamo di avervi, come si dice, trasferito quello che è il concetto vero dell'opera alla quale si dedicano queste ragazze. Io continuo a chiamarvi ragazze, avete davvero lo spirito delle ragazze, anche se molte di voi sono mamme. Sì, la maggior parte forse siamo mamme, però siamo ragazze dentro. E quindi riuscite davvero a regalare un sorriso. Grazie a nome di chi magari non riesce a dirvelo, perché probabilmente non tutti riescono a dirvi veramente grazie, perché magari poi in quei momenti ritornano alla mente i problemi e le difficoltà. Però il sostegno che voi date davvero, ripeto, meritate, quando sarà un domani, di avere il posto fra gli angeli. Ah no, grazie a voi, grazie a tutti coloro che ci sostengono. E comunque io voglio concludere dicendoti che la banca delle parrucche non è completamente istituita e abbiamo fatto il primo step. Quindi chiunque volesse e vuole comprare ancora il libro, il libro è ancora in vendita, così possiamo ancora regalare i sorrisi. Certo, il libro fra polvere e luce di Amelia Sgobba, magari la regia se ce lo inquadra nuovamente, eccolo qui, è un libro che se acquistate vi aiuta a regalare il sorriso alle pazienti della stanza del sorriso e complimenti alla vostra associazione, complimenti a tutti. Io ringrazio voi, amici telespettatori, per averci seguito. Canale 2C dopo il Tg vi dà come sempre appuntamento tutti i giorni dopo il Tg, domani vi vedrete con Arturo Gastoro. Alla prossima!